eccoci ragazzi partenza per il quinto giorno quinta tappa mi sono messo in questo questa stanza questa notte ora si parte molto presto per cercare di evitare un po il più possibile l'acqua visto che comunque sarà una giornata difficile anche oggi speriamo in bene speriamo comunque che non piova più di tanto se fa come ieri può anche essere bello nel senso comunque ieri non ho comunque ripreso niente perché ovviamente con l'acqua non si sa mai con la gopro eccetera e oggi speriamo di riprendere qualcosa al massimo farò dei video con così magari quando mi fermo e tutto comunque dai si parte oggi ultima tappa in teoria arriverò a caponord dai dai poi c'era la strada la lunga strada del ritorno e si prevede acqua tanta acqua ragazzi sono già sono già cotto tanta acqua eccoci ragazzi pronti per partire ora è 4.09 del mattino non sembra vero ma qua c'è chiaro comunque adesso parto per ora non piove però guardate il cielo abbiamo circa 600 chilometri da fare quest'oggi e quindi partiamo ok si parte questo è l'ultimo distributore della svezia prima di entrare in prima di entrare in finlandia siamo proprio qua al confine quindi faccio benzina faccio benzina perché in teoria in finlandia costa di più però non lo so e poi passiamo all'euro in finlandia ragazzi passiamo all'euro ok qua si gira a sinistra e si entra ragazzi in finlandia finlandia ragazzi facciamo foto facciamo una foto col cartello dopo il breve passaggio in finlandia sono passato in norvegia e passo alla voce fuori campo perché in pratica da qua il tempo piano piano ha iniziato diventare davvero ostico il tempo meteorologico vedrete pian piano dalle immagini come si è andato a peggiorare questo diciamo ultimo tratto di strada che ci avvicina a capo nord passando sono passato dal paese di alta l'ultimo paese grosso che c'è prima di arrivare a nord cap diciamo è stato un ultimo tratto davvero davvero intenso intenso di emozioni ma intenso anche di precipitazioni ragazzi perché hanno presa davvero tanta soprattutto a salire a salire l'ultimo tratto state vedendo adesso l'immagine è stata davvero dura perché più si andava su più arrivava anche freddo freddo vento nebbia stato davvero davvero difficilissimo vedete qua le immagini di un posto comunque fantastico davvero è davvero spettacolare salire a nord capo gli ultimi chilometri soprattutto ma poi vedrete nel video di domani di domenica prossima che sarà davvero ancora più bello comunque poi vedete il passaggio nella galleria sottomarina che porta poi all'ultimo tratto di 30 40 chilometri che mi porterà appunto a nord cape qua diciamo è diventata ancora più dura vedete qua le immagini davvero davvero difficilissimo fino a quando ragazzi sono riuscito a vedere le renne le prime renne di questo viaggio a pochissimo da capo nord ma io voglio lasciarvi le emozioni le ultime emozioni che ho provato per raggiungere capo nord il punto più norte la renna uuuuh la renna le renne le renne renne viva le renne Figa la renna Figa 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 la renna Ah 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 Uh le renne ahhh ahhh Croia Ecco d'acqua Ancora Ancora pona s始lata Infoglio non voglio non voglio vacca un momento ciao Italia grazie ti spiego perché il parcheggio è gratuito ah ok non bisogna pagare niente soltanto se vuoi entrare all'edificio al centro visitatori dove ragazzi vi do un consiglio non pagate perché al centro visitatori non controllano niente quindi entravano tutti anche senza aver pagato qua figa siamo arrivati non 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 in mezzo porca di quella troia di freddo noice Italia 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 non 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 ah 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 ragazzi arrivati capo nord figaro freddo della madonna non si vede niente però ci siamo ci siamo ci siamo adesso c'è da tornare indietro c'è solo da tornare indietro spettacolo eccoci